Ciao ragazzi, dato che siamo arrivati a quasi 100 iscritti e 30.000 visualizzazioni sul canale ho deciso di migliorare la qualità audio dei miei video. Seguendo quindi il consiglio del mio amico Matteo, che saluto, ho comprato questo microfono, il Lavalier. Andremo adesso a testarlo insieme. Fino adesso l'audio che ascoltate è registrato tramite la fotocamera interna del cellulare. Mentre adesso andrò a collegare questo microfono al mio Samsung S7 Edge. Eccolo qua il microfono. Come vedete tramite la clip è molto comodo da agganciare. Ora, il microfono io l'avevo già testato e secondo me migliora molto la qualità audio. La voce sembra molto più presente e molto più corposa. Questo microfono lo consiglio a tutti quelli che hanno bisogno di migliorare la qualità audio dei propri video e lascio qui sotto il link per comprarlo. Attualmente costa solo 11,50€ e per il costo ne vale molto la pena, secondo me. Ora, come sempre, vi invito a lasciare qualche commento qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!